Buongiorno e bentornati nella canale della Volpe. Continuiamo a parlare di libri. Oggi un libro che vi devo da qualche tempo è stato il Book Club di aprile, quindi ho un pochino in ritardo, ma recuperiamo. Oggi vi parlo di Le nostre adorate ragazze, di Mazzura Rieco. Allora, abbiamo letto questo libro appunto a fine aprile in un Book Club che è stato particolarmente partecipato sia un po' per la trama del libro sia un po' perché con noi c'era la traduttrice e quindi questo ha permesso di probabilmente arrivare un pochino più addentro a certe questioni. Ma adesso ne parliamo insieme. Cercherò di parlarvene senza spoiler, anche se di per sé non è un libro troppo incline agli spoiler. Comunque, vediamo. Allora, di che cosa ci parla questo romanzo? Siamo in un liceo. Siamo in un liceo, quindi, verso il penultimo anno, in realtà, del liceo, forse tra il penultimo e l'ultimo, in una classe esclusivamente femminile, quindi un liceo dove le classi sono o solo maschile o solo femminile, un ciclo sono classimiste, e all'interno di questa classe siamo buttati all'interno della narrazione da, come dire, una voce corale che è quella, appunto, delle ragazze della classe, che ci raccontano dall'inizio, in maniera molto curiosa e anche molto da prendere con le pinze in certa misura, la loro vita in classe insieme a un trio, cioè tre delle loro compagne, che si chiamano Hinatsu, Mashio e Utsuho, e sono soprannominate la famiglia, e sono in particolare soprannominate il papà, la mamma e il principe. Questo ci rappresenta subito una dinamica molto particolare, ovvero questa classe, una classe femminile, che è una classe in realtà molto unita, ma nello specifico queste tre ragazze che hanno creato una dinamica interna ancora più solida, ancora più stretta, in cui ci sono dei ruoli che riprendono, appunto, quelli di una famiglia più tradizionale, dove, appunto, Hinatsu viene chiamata il papà, Mashio la mamma e Utsuho il principe, inteso come figlia, figlio, così. Quando intendo che è difficile fare spoiler, intendo proprio che quello che ci viene raccontato non è un climax di eventi imprevedibili, e quindi con un ritmo particolarmente intenso e con molte, come dire, molte news o molte sorprese durante la lettura. Ci viene presentata una realtà di liceo, quindi una realtà dove ci troviamo davanti a persone che non sono ancora adulte, adulti a pieno titolo, quindi una realtà di, come possiamo dire, esplorazione della propria indole, esplorazione della propria realtà, anche esplorazione della propria persona e delle relazioni con gli altri e con le altre. quindi ci viene raccontata dalla coro della classe e quindi da una voce plurale che non è mai una voce credibile fino in fondo per la loro stessa ammissione, proprio perché non è presente sempre nelle relazioni tra queste tre ragazze, ma ci viene presentata una realtà che è molto quotidiana, quindi quello che succede dentro la classe, come si strutturano le relazioni tra queste tre persone, tra queste tre ragazze, con Hinatsu che sembra un po' la, come dire, la voce dell'autrice in qualche misura, quindi una voce cauta, una voce calma che controlla le altre due, ma le controlla in senso affettuoso, quindi le osserva più che le controlla. E poi Mashio, che in realtà è quella a cui mi sono affezzata di più, che invece è una figura molto più ribelle che dice sempre quello che pensa, fino ad arrivare a Utsuo, che invece è quella più infantile. Quindi anche nelle dinamiche tra queste tre persone molto spesso ci viene raccontata la loro caratterizzazione individuale e personale e il modo in cui questo triangolo funziona. Gli eventi quindi continuano in questa quotidianità tra gite di classe, tra momenti insieme, tra serate in cui la mamma e il papà, quindi Hinatsu e Mashio vanno a dormire da Utsuo e lentamente ci viene portata avanti un'immagine, ci viene rappresentata un'immagine molto complessa non solo di queste ragazze e della classe nel senso più ampio, ma anche delle relazioni tra le giovani adolescenti e gli adulti di riferimento. In questo, per esempio, ho trovato molto più, come dire, molto più brio rispetto ad altri romanzi che abbiamo letto recentemente, proprio perché anche in questo caso, così come la classe non ci viene rappresentata in modo compatto, ma ci sono tante voci diverse, tanti caratteri diversi, così anche il mondo degli adulti non ci viene rappresentato come un blocco unico di figure che non sanno più rapportarsi agli altri e che sono risucchiati nei meccanismi della società, ma ci vengono presentate diverse facce degli adulti, quindi ci sono gli adulti più conservatori, gli adulti più invece pronti ad ascoltare, c'è un po' di tutto. E questo è un elemento, secondo me, di grande interesse che rende forse anche più realistica la dinamica nell'insieme, soprattutto perché ci troviamo davanti appunto a un trio di adolescenti che esplora appunto la propria relazione con l'altro e non per forza in una forma romantica o sessuale, ma proprio come relazione rispetto all'altro, senza volersi appiccicare etichette, senza voler appiccicare etichette agli altri. Senza fare spoiler, a un certo punto in effetti avviene un evento che manda in frantumi questa realtà, se no in altrimenti, questa realtà altrimenti pacifica, un evento che vede coinvolti degli adulti anche in realtà poco maturi, degli adulti che non sono particolarmente emancipati o emancipate. E quindi ci porta di nuovo sulla scena il pericolo di una certa figura adulta che non comprende le generazioni successive e che per una strana forma di protezione o forse anche di invia di gelosia nei confronti di alcuni adolescenti e reagisce in maniera drammatica creando una frattura. Non vado oltre nello spoiler, ritengo che questo sia un passaggio importante e interessante, ma che probabilmente arrivando anche alla fine della fase del liceo e quindi della fase adolescenziale in senso stretto, forse è semplicemente una frattura forzata che anticipa una separazione che ci sarebbe magari comunque stata. Le dinamiche però sono molto complesse, molto ben raccontate, soprattutto le dinamiche all'interno delle tre ragazze sono molto interessanti e sempre nell'accortezza, quando si legge, di fare attenzione a chi ci racconta le cose, vediamo in realtà delle figure di ragazze adolescenti molto mature, nel senso di molto consapevoli della loro età, molto consapevoli del fatto che tutto sommato è l'età giusta per provare a conoscersi, è l'età giusta per non volersi appiccicare addosso di etichette ed è l'età giusta per investire su di sé. E in questo senso, rispetto ad altri romanzi che ci offrivano uno sguardo su un'adolescenza e su un'età adulta in modo molto più malinconico, molto più doloroso, qui personalmente ho trovato delle soluzioni alla fine anche di ribellione che mettevano in primo piano le esigenze individuali delle ragazze che ci vengono raccontate durante la vicenda e che quindi in qualche misura ci offrono un'alternativa al mondo rigido e iperconformista che invece ci viene raccontato da altri romanzi. mi viene ovviamente il confronto con i terrestri tutta altra atmosfera tutte altre problematiche anche qui c'è in qualche misura un confronto tra un mondo pre-adulto un mondo adolescente là era addirittura infantile e un mondo adulto che a volte non comprende ma qui c'è anche altro e le dinamiche interne tra le ragazze si muovono anche in base alla varietà di possibilità che gli adulti sembrano rispecchiare quindi non so se sono riuscita a farvi arrivare tutto quello che questo libro ci ha lasciato in realtà è un libro da leggere non vi ho parlato di Mazzura rieco all'inizio come faccio di solito quando introduco un autore perché in realtà io di Mazzura non ho mai letto i libri che sono usciti prima sono usciti in particolare La luce P e Corpi di Donna parliamo degli anni 90 se non sbaglio che sono due libri profondamente diversi rispetto a questo perché sono due libri adulti due libri molto più espliciti riguardo il corpo femminile riguardo la sessualità riguardo anche la fluidità del genere in qualche misura sono due libri quindi molto più provocatori anche molto più scioccanti in qualche misura per un pubblico italiano ancora oggi che meriterebbero di essere riscoperti e che quindi fanno come dire da contraltare in modo molto interessante rispetto a questo libro Le nostre adorate ragazze che è del 17 se non sbaglio ma io non li ho letti quindi non vi potrei offrire in effetti una panoramica più approfondita su questi libri passati spero di poterli recuperare quindi di poterveli raccontare con più contezza e quindi potervi anche offrire uno sguardo leggermente più ampliato su questa su questa su questa autrice certamente come è venuto fuori nel book club è un'autrice che rifugia ogni classificazione lei per prima non ama essere identificata in modo troppo netto né come generi né come impegno sociale né come e né altre cose questa sua posizione sembra poter dire che emerge in effetti nel romanzo le nostre adorate ragazze proprio nella figura di Hinazzo quindi in questa figura molto che osserva molto la metterei così che studia molto che pensa molto che sperisce che sperimenta e che quindi non ama l'idea di essere chiusa in una scatola per come dire la comodità altrui ecco in questo anche da quello che ci è stato raccontato durante il book club da questo in effetti emerge molto il sentimento di Matsura circa la sua collocazione sia nel panorama letterario che nel panorama più ampio della società giapponese è un'autrice che nonostante appunto sia un'autrice di successo un'autrice importante soprattutto in Giappone noi la conosciamo meno ma in Giappone è importante anche a dimostrazione che non vuole farsi incatenare in una serie di scatole è una di quelle autrici che non pubblica due romanzi quindi non è incastrata nella iper produttività del mondo editoriale giapponese ma pubblica un po' quando ritiene come dire in questo senso con grande libertà anche la libertà che noi percepiamo anche in questo romanzo di cui vi sto raccontando in questi momenti è un'autrice sicuramente da riprendere un'autrice di cui spero ci sarà modo più avanti anche di parlare ancora magari con altre opere e che onestamente mi ha lasciato in questo romanzo un senso di speranza che da tanto non trovavo in un libro di un'autrice donna giapponese i libri a cui sto facendo riferimento in particolare sono appunto i terrestri ma anche la ragazza del convenience store ma anche segni uova c'è tutta una serie o la fabbrica per esempio tutta una serie di romanzi iper interessanti che hanno grandissimi spunti di riflessione ma che sullo svolgersi poi sulla conclusione finale non offrono a mio avviso uno sguardo positivo ma offrono una impossibilità di fuga qui invece forse segni uova meno ma c'è comunque questa sensazione di un ruolo materno una figura materna e una una rilevanza anche quasi biologica della maternità ma su questo magari ne affrontiamo affronteremo il discorso in un altro modo in un altro momento resta che però in questo quindi nelle nostre adorate ragazze io ho percepito quasi più concretezza nell'offrire uno spaccato di società più variegato quindi non come un destino di crescita in un mondo che ti fa gocita e che ti impone per forza le proprie scelte ma come un minimo di agency che viene promessa che viene lasciata anzi non promessa che viene riconosciuta alle protagoniste e che quindi non tutte nello stesso modo non tutte con la stessa forza ma riescono a districarsi dall'evento che ha causato questa rottura e quindi dal dal terrore di una maturità imposta lo consiglio assolutamente è un romanzo molto interessante è un romanzo che fa riflettere molto anche sulla relazione ragazzi e ragazze proprio perché le classi sono separate e i ragazzi vengono raccontati in modo molto interessante come una realtà che non si vuole raffrontare in modo pacato con le femmine tra virgolette ma che le vede come figure ostili anche questo è un punto di riflessione che noi abbiamo toccato che non sto a ritoccare qua nella stessa profondità con cui abbiamo fatto nel look lab perché ci costerebbe un video solo questo ma sicuramente è interessante proprio lo sguardo dell'autrice su quella fase dell'adolescenza in cui non si è più primi adolescenti quindi si è ancora quasi bambini non si è ancora adulti ma si sta arrivando a grandi passi all'età adulta ecco proprio in quella metà in cui le relazioni sono più forse anche più complesse e quindi gli esiti sono tutti da sperimentare ecco questa capacità di guardare l'adolescenza in questo modo è stata recepita da tutti come un segnale molto interessante proprio perché l'autrice non è ampiamente più adolescente qui parla di una generazione che non è la propria è una generazione nuova sembra riuscire a trasmettere in effetti le dinamiche interne a questa generazione e offrirci quindi uno spaccato meno meno distopico oh ho trovato il termine giusto meno distopico meno inquietante anche quindi con maggiore con maggiore radicamento forse nella quotidianità effettiva delle persone leggetelo la traduzione di Anna Specchio io sono di parte non posso che apprezzarla non è il mio lavoro ma ripeto un libro tradotto in maniera molto piacevole scorre molto bene trovate molti momenti anche divertenti molto ironici tra le persone coinvolte nelle relazioni e sicuramente è un libro che fa fa venire fuori molte riflessioni a mio avviso a nostro avviso per quello che è uscito dal book club quindi io adesso chiudo qua il video vi consiglio la lettura di questo romanzo se l'avete letto io vi chiedo come sempre di condividere i vostri commenti così come dire ci raccontiamo più cose magari vengono poi ancora più spunti di riflessione se vi siete iscritti al canale pronti se vi siete iscritti al canale vi ringrazio vi ricordo la campanellina e il like al video se questo romanzo vi è piaciuto se non vi siete iscritti al canale potreste farlo perché come avete visto abbiamo ripreso un pochino a parlare di libri vi terremo aggiornati sui traslochi nella nuova sede vi terremo aggiornati sulle live che stanno per arrivare e sugli eventi fisici che stiamo programmando già in maggio ma poi anche in giugno e luglio vi ricordo che come ogni anno luglio sarà poi l'ultimo mese fino a metà luglio mettiamola così di eventi in senso stretto perché poi l'estate incombe e quindi ci godiamo insomma ancora questi due mesi di eventi per ora vi ringrazio vi bacio vi aspetto nei commenti ma soprattutto vi aspetto nel prossimo video ciao vi aspetto vi aspetto